Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da dispare, per una storia che non va, ma pensa a me che resto qui, davanti a facce senza visia, ti inviutare i miei soffizi. Tutti i giovedì ore 21 in diretta vi aspettiamo al Polbar, insieme a me e a tutti i miei ospiti su 5 Stelle Sardegna.